Zero morti sul lavoro, questo l'obiettivo principale in un mondo dove i numeri, soprattutto negli ultimi tempi, fanno paura. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salute dell'ambiente, della Wiltec, il settore del tessile, dell'energia e della chimica per l'esattezza, contesto in cui il rischio è dietro l'angolo, si sono riuniti a Termoli per un corso propedeutico alla loro funzione e sui problemi quotidiani in postazione. Procedere a un maggiore coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza nei siti industriali è un passo da compiere nel breve tempo. Questo è un corso collegato alla campagna Zero morti sul lavoro. I numeri che abbiamo in Italia, detto Marco Lupi, responsabile Wiltec per la formazione, sono molto critici. La nostra campagna è stata promossa a cavallo tra il 2020 e il 2021. Vogliamo la massima attenzione. Durante l'iniziativa non è mancato il ricordo di Saverio Mascilongo, dirigente sindacale deceduto a causa del Covid. È stata una giornata dove abbiamo messo al centro la sicurezza, facendo riferimento al polo chimico termolese, ha detto il segretario regionale Wiltec, Carlo Scarati, possiamo dire che per il territorio è stato un approdo importante per qualità di stabilimenti e lavoratori, ma noi siamo qui per inseguire il cosiddetto rischio zero.